Ci ricordiamo tutti del personaggio Fracchia, ritornato oggi d'attualità dopo la distruzione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, quando diceva, ma quanto è buono lei, all'indirizzo del megadirettore generale, un individuo autoritario spietato che era uso persino tagliare la punta dei sigari con una minuscola ghigliottina. Ma anche noi in questi giorni ci sentiamo come circondati da improvvisati altruisti che gridano allo scandalo per le misure prese da Donald Trump. Passi se questi contestatori hanno vent'anni o giù di lì, perché se non si sono informati come hanno fatto saggiamente molti loro coetanei, non possono sapere che nel 1994 fa fra un trastullo e l'altro alla sala ovale della Casa Bianca, il primo firmare fu Bill Clinton, un documento, un atto che permetteva di costruire un lungo muro che avrebbe diviso il Messico dagli Stati Uniti. E per la stessa ragione non potevano sapere che nel 2006 questo atto venne notevolmente peggiorato, portando questa volta tre illustri firme di altrettanti criminali di guerra. Nell'ordine Hillary Clinton, George W. Bush e lui, Barack Obama, premio Nobel per la pace, verbe voglia di dire per la pace eterna di quanti ci hanno rimesso la vita nel tentativo di aggirare la barriera. Quando vedo queste prezzolate, non si sa da chi, corrispondenti dagli Stati Uniti, in genere delle reti nazionali italiane, mi domando come abbiano potuto tacere per tanti anni, visto che la loro età media supera i 40 anni. E dei 5.000 morti per diverse ragioni nel tentativo di superare il muro a confronto dei 138 del muro di Berlino, tanto sannato che secondo Giulio Andreotti avrebbe dovuto esistere ancora oggi, questo per non perdere di vista le proporzioni. Queste signore hanno taciuto donne ma anche uomini corrispondenti e oggi mostrano di stracciarsi le vesti con il loro buonismo assoluto e peloso. George Soros, Avats, banchieri, petrolieri, armaioli e militari della Nato e per il nostro paese la superclintoniana Giovanna Botteri tremano tutti al pensiero che il castello guerrafondaio di menzogna che hanno contribuito a costruire per tanti anni possa crollare per l'opera del ciclone Trump, un castello che ha permesso loro di arricchirsi e prosperare per tanto tempo. Grazie a tutti!